Allora Ileana, un equilibrio del mazzo di fiori, mi dice che qua sopra c'è del vuoto, ma noi lo possiamo riempire con un sistema molto semplice, per cui facciamo una cosa, facciamo un altro margheritone qua sopra, tu i guanti ce li hai, allora guarda, vorrei colori più chiari però, non questi qua, questi li abbiamo già usati troppo qua sotto, questo intanto, questo lo faccio io perché sono un po' più aspetta, per dare un po' di rotondità, un po' di più. Allora io farei un margheritone qua sopra, però bianco e celeste, io per farlo bene mi devo cambiare. Perché ti voglio far vedere, tu questo l'hai fatto con la spatola, no? Sì. Allora, prendi il bianco, e poi prendi la fiamma, e poi prendi la fiamma, e poi prendi la fiamma, qui senza base, senza niente, hai pronti così? Fa il disegno. I margheritoni ce li hai già fatti, qua vedi capisci che devi uscire, girare sempre intorno a una specie di puntino, che poi evidenzieremo, quindi fai dei petali che vanno sempre, bello abbondanti, attaccali l'uno con l'altro, e vai. Anche se è mosso, considera che dal punto di vista prospettico, questo fiore che è un po' in alto, non è che lo vediamo di fronte come un girasole, quindi è proprio così, è mosso, e qui questo petro alla fine sarà così, in questo punto se tu prendi la punta di un dito, qua dentro, scherci un dito qua dentro, dritto, adesso scherci un dito qua in mezzo, ancora un po' più... ma quel cesto è molto alto? Sì, un po' con il pezzo, il resto è molto alto, il resto è molto alto, ti dai movimento? No, possiamo farlo con un po' più scuro, qua pure, questo è giusto, questo è un po' più bianco, così è giusto a tutto. Adesso, 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 scorto così. Allora, definiamo meglio questi metodi, e io faccio con le mani. Questo va bene. Grazie. Poi quando prenderemo il bianco, vedremo la luce come gli viene data. Sì. di evidenzia di più. e io faccio con le mani. Sì. 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 Sì.